Domenica 6 settembre a Portenone torna la festa dello sport. Nei dintorni del municipio, dalle 10 di mattina alle 6 di sera, gli stand delle associazioni sportive locali forniranno a grandi e piccoli tutte le informazioni su corsi e attività. Un'occasione unica per avvicinare i propri figli alle discipline sportive, tutte rappresentate nei circa 50 gazebi. A causa delle norme anti-covid, quest'anno non si potranno provare gli sport, ma quello organizzato dal comune sarà comunque una festa. Questo è un territorio fortunato, sia in termini di impianti, sia in termini di associazioni che svolgono le più svariate discipline. Quindi questa festa, perché festa sarà, non potrà più mostrare come gli anni scorsi le discipline del vivo, ma consentirà di approcciarsi, di parlare con le varie associazioni per consentire a questi ragazzi di scegliere lo sport che più preferiscono, perché lo sport è salute, è relazione, è stare insieme, è divertimento e crescita. A ogni visita negli stand, a bambini e ragazzi verrà rilasciato un coupon con il timbro. Dopo dieci timbri si potrà ritirare gratuitamente un gadget a scelta tra mascherina, borraccia, bandana e maglietta. È proprio una vetrina, come lei diceva, cioè tutti i genitori possono portare il proprio bimbo in questa passerella nel cuore della città, nel cuore bello della città, ma la città di Pordenone è tutta bella, dobbiamo dire la verità, in modo da visitare tutti gli stand delle nostre attività sportive. Dimostreremo quanta offerta sportiva che dà la città di Pordenone. Vi devo dire che con questa amministrazione è veramente tanta. Grazie a tutti.